Una puntata molto bella ma anche molto ricca perché siamo con altri due ospiti nel nostro pomeriggio che stiamo vivendo alla grande insieme e saluto subito in maniera speciale Francesca Mercuri, direttore artistico degli Avanzi di Balera. Avanzi di Balera Modenesi. Specifichiamo. Buonasera a tutti e grazie mille. E Marco Baccarini, responsabile degli eventi. Esatto. Allora, buonasera a te caro Marco e parliamo di questa associazione Avanzi di Balera Modenesi. Di cosa si tratta? Ma innanzitutto nasciamo da un libro, da un libro di un grande ricercatore che è un grande cittadino modenese che è Massimo Masini, che era, anzi purtroppo, Massimo Masini, che mise in un libro, come dice lui, in ordine alfa beat, tutto quello che era il mondo modenese del suonare, il genere moderno, il beat, queste nuove cose che irrompevano sulla scena musicale italiana, dal 1963 al 72. Ne emerge che ci sono più di 600 persone censite, con le fotografie dove suonavano, cosa facevano, ma ne emerge anche un dato eccezionale, che queste 600 persone che suonavano erano esattamente lo stesso numero a Modena, città di 150.000 abitanti all'ora, ricordiamocelo bene, di quelli che suonavano questo genere a Milano e a Roma, messi insieme. Questo dato dice che non è un caso se Modena è diventata la capitale del beat, se qui è nato da Guccini, i Nomadi, l'Equipo 84, Caterina Caselli, carinissima, che saluto, poi successivamente la seconda generazione, quindi Bertoli, quindi Neck, quindi Vasco, e quindi tutti gli altri che sono usciti, non me ne voglio dimenticare neanche un, Laura Mezzanotte, Silvia Mezzanotte, chiedo scusa per il nome, sempre Mezzanotte è però, l'ora non cambia, non c'è l'ora legale, quindi la Silvia Mezzanotte e tanti altri che si sono affacciati sulla grande scena. Sono nati perché qui c'erano una serie di proposte interessanti, cioè quando nel 63 ho cominciato, io avevo 14 anni nel 63, così fatti i conti che ne ho 68, ecco nel 63 avevo appunto 14 anni e c'erano tre scuole di musica, che non nominiamo, le conosceremo tutte. Nel 72, quando io ho smesso di suonare di mestiere, ce n'erano 12. A Modena c'erano nel 63 un negozio, virgola 5, facciamo finta che siano due, di strumenti musicali e quando sono smesso di suonare avevo l'imbarazzo della scelta di dove portare gli strumenti perché insomma c'erano diversi posti dove poterli mettere, quindi c'erano 5-6 negozi di strumenti musicali e anche un sacco di Utahi. Quindi diciamo che abbiamo fatto nascere anche un'economia indotta qua dintorno a questa cosa, oltre che a quel movimento che poi ha dato i musicisti a Vasco Rossi, che ha dato i musicisti anche fra l'altro all'amico Luciano Di Gabue, a Neck e a tutti quelli che hanno suonato, hanno pescato i musicisti qua. Ricordiamoci che gli stadio abitavano a Vignola, non abitavano, a Bologna, cioè tre di loro su cinque e che il loro chitarrista è Ricchi Portera, ciao Ricchi, ti voglio bene, ecco che è uno dei nostri grandi amici, quindi ricordiamoci questo. Quindi noi cosa abbiamo fatto? A un certo punto abbiamo visto questo libro di Massimo Masini e io ho preso la palla al balzo e ho detto perché non ci riuniamo e non facciamo l'associazione? Eccoci qua attraverso un percorso che nasce nel 2015 con la nostra prima uscita a Castelnuovo Rangone, alla fiera di Castelnuovo Rangone, una serata per molti aspetti terribile perché pioveva di rotto e c'erano 10 gradi, il 22 di maggio era. Un esordio funambolico. Un bagnatissimo con sediva al fie, come si dice Modna, come si suol dire. Contrato di effetti speciali. Benissimo, quindi facciamo senza la macchina del fumo, però tenevamo lì 350-400 persone che tremavano dal freddo però saltavano come i matti perché si stavano divertendo con noi. Da lì abbiamo capito che forse era il caso proseguissimo. Poi abbiamo fatto il Modena Beat numero uno al Parco Mendola. Poi abbiamo fatto nel 2016, poi abbiamo fatto sempre nel 2015 un John Lennon Day meraviglioso con artisti che venivano anche da fuori Modena anche con dei nomi eclatanti come Giacomo Voli che oggi vola veramente alto. Con la Roberta Giallo che quest'anno ha vinto tutti i concorsi possibili dei cantautori italiani, le venti lei, insomma questi nostri amici hanno lavorato insieme a noi. Quindi si parla anche di cantautori, di chi scrive la buona musica. Sì, 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 sono fra l'altro anche sì diventati i nostri soci. Poi dopo, niente, siamo cresciuti, abbiamo fatto diverse altre cose ed eccoci qua, abbiamo fatto l'anno scorso in Piazza 20 e ricordiamo il De Gusti Blues ma prima ancora è stata fatta la prima rassegna invernale di Blues Modena. In teatro d'inverno nessuno si era tentato a farla prima perché è il Blues Modena, il Blues Modena, il Piazza Brisa. Chissà se sarà un successo. Abbiamo preso il Teatro Tempio e saluto gli amici del Teatro Tempio con in testa la cara Maletti ma il Teatro Tempio non conteneva, insomma, conteneva poco di più della metà della gente che voleva entrare. Abbiamo dovuto lasciare fuori un sacco di gente, insomma. Questo perché la musica è sempre stata qualcosa di aggregante e ne hai parlato tu, questo successo della gente che vi ascoltava ma anche un veicolo di eventi e di mezzi per fare cultura ma anche per proporsi nel sociale, aiutare chi ne ha più bisogno o anche passare dei messaggi di solidarietà. È il caso proprio in questa puntata di parlarne in maniera molto importante. Al Tempio, non ti voglio rubare la parola, ma al Tempio noi ci andammo con la netta dichiarata, lo dichiarammo proprio scritto e detto tutte le sere, con la netta intenzione di fare praticare quella zona non ai soliti che la praticavano ma della gente che veniva per ascoltare la musica e non per fare quello che sappiamo bene che succede la sera nelle zone limitrofe. È una musica salvifica. Per fare, per fare, no, ma un'azione di contrasto morbido cioè portiamo e facciamo vedere che in quella zona si riesce a fare anche qualche cos'altro di meglio, diciamo così, no? E di estremamente positiva. Sì, abbiamo fatto questo primo nostro intervento sociale secondo lo faremo fra un po' e ne faremo poi anche altri. Dopo poi insomma abbiamo fatto anche altre cose importanti come... Ma ne parliamo, ne parliamo adesso perché voglio addentrarmi invece con Francesca Mercuri sul primo evento e qui parliamo della vostra associazione che fa cultura. Di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo due eventi abbastanza importanti che ci coinvolgono al Teatro della Cittadella coinvolgono le avanzi di Balera e volevo specificare l'associazione Magicamente che è l'associazione che gestisce il Teatro della Cittadella con il quale abbiamo stabilito questa partnership molto bella. Infatti avete parlato spesso di un connubio importante perché sottolineate questo connubio importante? Cosa significa? Guarda, la musica... Te lo resumo con una frase la musica unisce la musica deve unire deve unire gli intenti e quindi noi abbiamo cercato di... Sempre nella storia di questa associazione c'è sempre stata una ricerca di collaborazione con altre realtà come quando abbiamo fatto il blues realtà anche bolognesi quindi anche cercare di un pochino di uscire dai confini di Modena e cercare un interscambio e con la collaborazione del Teatro Cittadella e dell'associazione Magicamente abbiamo creato questi due eventi che siamo qui a presentare e ti ringrazio tantissimo per ospitarci. No, grazie a voi. Allora, parliamo perché poi quello sul sociale ha una presentazione sua e un messaggio anche molto importante che voglio dare ai nostri telespettatori parliamo adesso di quello del 18 strettamente, squisitamente di quello del 18 Allora... Guarda, da brava presenza Francesca che hai già la locandina Allora, una cosa che ci caratterizza è che durante i nostri spettacoli noi non solo suoniamo la musica ma la raccontiamo ci piace molto anche raccontare le storie di quello che succede sul palco magari così il telespettatore no, il telespettatore no ho sbagliato lo spettatore scusate che sono in tv mi sono fatta un po' prendere e lo spettatore così ascolta magari la canzone con anche un'idea più interessato o l'ascolta già in un'ottica diversa se sa come nasce quindi la nostra idea era di portare il blues, il Beatles, il rock all'interno della stessa serata raccontando anche brevemente come si è arrivato al rock partendo dal blues e ovviamente attraverso i Beatles perché sono le tre rivoluzioni diciamo più importanti i Beatles sono stati la prima grande rivoluzione della musica diciamo popolare perché sono arrivati a tutti dal blues nasce tutto e il rock è stata la terza grande rivoluzione perché insomma la musica con rock ha subito veramente un un impulso anche un'ondata nuova quindi noi racconteremo con queste tre band che sono i giallo blues una realtà nostra modenese del blues i beat repeat che fanno il tributo ai Beatles e i magical minds che sono la resident band diciamo dell'associazione Magicamente racconteremo questa storia parte dal blues quindi dai campi di cotone da dove è nato tutto e arriverà il rock mi sembra un modo anche per ricordare Marco questi tempi che ci segnalavi tu la voglia dove si andava fuori si cantava dove c'era sempre la voglia di fare buona musica mi sembra un bel modo di riproporre queste magiche atmosfere cosa ne pensi? ma guarda noi non vogliamo passare per dei nostalgici perché insomma si fa presto dirlo ho i capelli bianchi ho fatto il 68 quindi si farebbe troppo presto è troppo gratuita la cosa noi cerchiamo di attraverso un aspetto culturale di sottolineare anche quello sociologico perché i campi di cotone avevano un aspetto sociologico piuttosto marcato il momento della rivoluzione Beatlesiana è un momento di in un primo tempo di rivoluzione dei consumi perché qui chi ascoltava i Beatles è stato valutato come consumatore non tanto come 18 anni 16 anni 15 anni i ragazzi potevano spendere qualcosa e quindi le mode tutte le cose che si potevano fare per la prima volta si è parlato della Beatlesmania quindi come a monetizzare anche questa cosa quindi è stata una rivoluzione bella pesante i Beatles poi che hanno aperto la strada a diverse altre linee perché anche molti cantautori hanno trovato la porta spalancata si sono infilati in un angolino e sono venuti fuori anche perché c'era questo effetto di rompente questa spallata dei Beatles che ha fatto cadere un muro diciamo così ecco ha fatto cadere un muro questo muro una volta caduto travolto di là è passato di tutto e da lì in poi la canzone comincia ad avere anche qualche aspetto il rock il beat eccetera cominciano a caricarsi di aspetti diversi di manifestare le proprie esigenze i propri dissensi ricordiamoci le manifestazioni oceaniche per il Vietnam quindi ricordiamoci questo ricordiamoci tantissime altre cose che sono state fatte quindi ecco ricordiamo questo poi ritorniamo nel rock passiamo al rock che ha affinato molto gli strumenti perché diciamoci la verità durante il periodo del beat a necca se avesse un suonerto taxe bene cioè ci davamo l'anima però insomma ecco con il rock ci siamo affinati parecchio tutti quanti ci siamo affinati anche l'orecchio perché molti gruppi sono andati a pescare nella musica classica oggi con P. 50 anni è A Wider Shade of Pale la canzone di Procolarm tradotta in modo disastroso in italiano in Senza Luce anche perché quella era una poesia e questa per l'altra no però insomma vabbè in Senza Luce che però è piaciuta tantissimo a tutti dove hai tirato dentro Giovanni Sebastiano amico nostro Bach ecco l'origine del mio nome viene proprio da lui no no è una bugia è una bugia non credo è un falso storico vabbè non è vero ecco però mi sta crescendo il naso quindi no 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 avevo questo questo Giovanni Sebastiano Bach che poi dopo sono stati presi anche altri insomma è stato preso Rachmaninoff con i quadri di un'esposizione sono stati presi altri e abbiamo portato la musica cosiddetta colta all'interno della musica popolare moderna come la chiamano i contemporanei tutto questo poi ha portato a Modena fra l'altro unica città al mondo dove è avvenuta la sintesi che è stato Pavarotti a fare la sintesi ha detto la musica è una quella buona cletra a ne menga bel lavoro eh Pavarotti è stato molto chiaro e poi ha fatto anche degli esperimenti se vogliamo dal punto di vista dei generi musicali molto belli interessanti ha portato con Modena unica città al mondo che ha fatto questa cosa da qua è nato questo meraviglioso esperimento da parte di Luciano Pavarotti stussicato e forconato in ogni modo da Zucchero Fornaciari detto Adelmo per gli amici il quale lo costrinse come sappiamo a fare quella anche un certo miserere un certo miserere che ricordiamo molto bene se non è una commistione di stili quella non so cosa sia però mi fa piacere che hai precisato tramite la mia curiosità che non è un'operazione nostalgia come direbbe un'operazione di cultura di conoscenza vorremmo che fosse così ecco è nel vostro interno un'operazione di far conoscere ecco questo era da chiarire e Marco l'ha precisato anche con qualche aneddoto e battuta in maniera molto pimpante facciamo spettacolo esattamente si vede perché state parlando molto bene a proposito di parlare bene qui si parla bene ma si parla anche di una giornata importantissima che vede come protagonista le donne ed è il 25 perché sembra di essere scusatemi un po' nel medioevo a parlare ancora di violenza sulle donne però c'è ancora questo tema però purtroppo il tema c'è ancora ed è una problematica tanto sentita come la musica può aiutare oppure parlare di questo tema allora noi abbiamo pensato appunto in occasione del 25 novembre che la ricordiamo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo pensato di creare appunto uno spettacolo schierando in campo solo interpreti femminili perché sia la resident band degli avanzi di ballera che si chiama avanzi tutta che i magical minds faranno cantare le donne della band perché vogliamo diciamo affrontare la tematica quindi sensibilizzare il pubblico nei confronti di questa cosa ma in un modo più leggero insomma con la musica quindi anche più che venga più recepito più fruibile quindi insomma secondo noi era un bel modo per raccontare di questa cosa e abbiamo un video che presenta un po' le protagoniste ovviamente non parliamo in senso stretto dello spettacolo ma presenta un po' le protagoniste di questo evento lo possiamo guardare insieme possiamo fare una presentazione anche ai nostri telespettatori mettere qualche curiosità in più alla nostra intervista sì volentieri grazie vediamo questo trailer 1,2,3,4 musica un po' va bene essere curiosi ma non svegliamo troppo ecco allora le ragazze che avete visto nel video saranno al centro della serata che come dicevo prima è anticipata dalla band degli avanzi di balera poi verrà chiusa dai Magical Minds ma al centro diciamo della serata ci saranno le High Heels queste ragazze questa rock band interamente al femminile il titolo vuol dire tacchi a spillo tra l'altro quella sera le ragazze avranno tutte le possiamo possiamo svelare il tacco rosso perché la scarpa rossa sapete che è il simbolo mondiale di questa giornata insomma del 25 novembre e della battaglia contro la violenza sulle donne e presenteranno un brano molto forte che dal titolo alla manifestazione si chiama Non è l'amore che racconta la storia di Giulia che è quella ragazza di Sassuolo che una decina d'anni fa era tipo il 2001 venne uccisa dal marito in un modo insomma abbastanza barbaro e in tanti se lo ricordano perché fu veramente una cosa molto molto forte saranno tante le iniziative in questo senso ma parlare di una giornata così particolare anche che ci era tristo un po' perché sentire con la musica dicevi tu bene alleggerisce ma arriva al cuore arriva al cuore ecco e questo è questo l'importante la musica ha fatto tanto in questo caso farà anche in questa giornata in questo 25 novembre sì volevo dire che nell'occasione diciamo nell'occasione di questo show le ragazze presenteranno questo brano per la prima volta e verrà proiettato anche il video in anteprima assoluta di Non è l'amore che è questo brano scritto da questa cantatrice sassolese Morgana Montermini che si ispira veramente alla storia di Giulia tra l'altro tu presenterai tutti gli eventi sì io presenterò entrambi gli eventi sì abbastanza sì 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 abbastanza perché l'emozione c'è sempre anche se tanti anni che lo fai però quando sali quello scalino senti sempre il pathos e poi un'energia anche che arriva dal pubblico che vuole ascoltare della buona musica anche recepire questi importanti messaggi e poi Marco la faremo anche cantare certo canterà la sua canzone io di David Bowie sì non è mia l'ha scritta quel genio è la sua perché è sua la sente nel cuore diciamo che è una canzone che mi appartiene abbastanza quindi il 25 novembre gli avanzi di balera schiereranno le loro cantanti e verrò anche io fare meglio Iva abbiamo i cantanti più Iva più Iva che è un valore aggiunto in questo senso l'ho detto per questo sarà un momento molto emozionante vabbè insomma vedremo come viene questa cosa però però non mi avete detto una cosa che per noi è molto importante perché conosciamo anche un po' nel vivo le persone cosa è per voi la musica nella vostra vita parto da Marco la musica che valore ha nella tua vita dopo di respirare solo seconda forse quasi in contemporanea sì respirare è necessario ma adesso al di là della battuta la musica è quel luogo dove vai se stai male è quel luogo dove vai se stai bene è quel luogo dove vai in un momento di estasi è quel luogo dove puoi andare stando fermo dove sei stai suonando e tu sei lontano viaggi senza dover spostarti da lì questo è quello che sento dentro non so no no è il tuo pensiero ed è legittimo hai detto una cosa è come l'aria come l'aria che respira una cosa Francesca pensa cos'è per te la musica e tra l'altro avrà un'importanza credo per te molto molto definita visto che veicolerai un messaggio a favore delle donne un messaggio contro la violenza quindi che valore ha in questo senso la musica anche per te sì per quanto mi riguarda personalmente mi associo a quello che ha detto Marco perché la musica fa veramente parte del nostro DNA poi abbiamo scelto di fare proprio queste cose per questo motivo e aggiungo solo una piccola cosa per me la musica salva la vita e non è tanto un modo di dire nel caso specifico di questa manifestazione del tema e in generale la musica è un veicolo per arrivare immediatamente alle persone e portare messaggi attraverso la musica quindi la musica è importantissima l'arte in generale qui si parla di musica per proprio trasmettere delle cose alle persone quindi la chiave è questa raccontiamo cose ma lo facciamo con la musica ed è molto significativo questo immagino che non vi fermerete poi avete già in mente altri progetti da qui in poi come si volerà come diceva l'Equipo 84 in mente te no ma al di là di questa battuta che è abbastanza gratuita sì abbiamo una rassegna blues con tacchi rossi neri verdi e blu ci sarà una vera rassegna blues molto importante che faremo fra fine gennaio e fine marzo sempre al Cittadella in collaborazione con il Cittadella e in sinergia con e qui ancora un'altra cosa più bella ancora con il Modena Blues Festival quindi non a scontrare ma a mettere insieme gli ingranaggi perché giri bene questo fatto culturale sulla città nel migliore dei modi cercando di aiutarci l'uno con l'altro di scambiarci le esperienze e di avere quindi una sinergia totale che ci porta a coprire tutto un anno di spettacoli su quell'argomento poi avremo il Modena Beat che credo anche quest'anno sarà fatto a Villa Sorra con pare qualcosa di ma però non svegliamo niente qualche sorpresa in più qualche piccola sorpresa in più e quindi avremo tante altre occasioni avremo molto probabilmente un 25 aprile a proposito di sociale particolarmente impegnativo una celebrazione del 25 aprile partendo da John Lennon nel pacifismo quindi non è non credo infatti come dice un tema non è siamo in tema non siamo fuori siamo in tema vorremmo solo farlo in un modo rispettosissimo e diverso dai soliti 25 aprile ecco io sono figlio di un resistente quindi per carità di Dio sono il primo però lo vorrei fare in modo è la forma il linguaggio che vada incontro a diversi tipi di orecchie non solo sempre ma poi ci ritroveremo come dicevo una canzone a parlarne non a Roxy Bar ma qui in onda con tanta buona musica e con il vostro racconto intanto ricordiamo due appuntamenti proprio nell'imminente il 18 di novembre e poi per la giornata delle donne il 25 di novembre la grande musica è veicolo di cultura ma veicolo anche di messaggi sociali molto importanti grazie per adesso è tutto saluto quindi Marco Baccarini responsabile degli eventi ma anche Francesca Mercuri direttore artistico grazie infinite ciao a tutti a presto grazie parola alla nostra regia adesso